Grazie consiglieri, ho ascoltato con molta attenzione tutti i vostri interventi. Grazie Assessore per la sua relazione estremamente dettagliata, nella quale evince una cosa importante, che questa vicenda dei punti verde qualità, un'iniziativa come tanti hanno ricordato, nasce per uno scopo nobile, cioè quello di una collaborazione tra il pubblico, il Comune di Roma e il privato, per restituire alla cittadinanza spazi pubblici utilizzabili per consentire aggregazione. E' diventata invece in alcuni casi, ahimè, una miniera d'oro per alcuni privati, a svantaggio del pubblico. E di questo noi oggi stiamo parlando qui. Come direbbero gli americani, un case study di un vero e proprio pasticcio tecnico-amministrativo. Ed è una faccenda estremamente complessa, una faccenda che interseca nel corso di vent'anni responsabilità amministrative e non solo, rispetto alla quale lo stesso dottor Cantone, il Presidente dell'ANAC, ravvisa letteralmente, leggo, un contrasto radicale, plurimo e diffuso, con i principi di libera concorrenza, procedure sui generis, svincolate e non compatibili con la disciplina dei contratti pubblici. Nonché violazione di legge nello stesso bando di gara. Una faccenda ventennale. Oggi ne stiamo parlando qui in questo Consiglio. Ringrazio il consigliere Cozzoli, che credo sia uno tra i primi richiedenti, anche se in questo momento non c'è qui con noi, perché ci dà l'opportunità di cristallizzare una situazione che, come tante altre, purtroppo che questa amministrazione si trova a fronteggiare, e ancora una volta con una necessità di urgenza incredibile. Taglio corto, non rubo altro tempo. Nel nostro dispositivo fondamentalmente ricalchiamo quanto già illustrato dall'assessore Mazzillo, un percorso strutturato, iniziato con il prefetto Tronca, con la delibera del 28 aprile 2016, nella quale in prima istanza il passo fondamentale è quello di riconoscere l'interesse pubblico da parte dell'amministrazione di queste strutture. Di fatto lo è, è così, è patrimonio di Roma Capitale, non potrebbe essere altrimenti. Ma poi bisogna strutturare un percorso, perché, come dicevo prima, le cose non sono semplici, non sono di immediata soluzione. E quindi è stata indetta questa conferenza dei servizi interna, citata già nei precedenti interventi, una conferenza dei servizi interna che chiaramente necessita dell'input della sponsorizzazione della parte politica. e rassicuro la consigliera Celli, che malgrado non sia stata formalizzata una delega all'assessore, ma l'assessore è qui presente con noi, questi consiglieri che siedono in questi banchi costituiscono una squadra che lavora con l'assessore non solo su questo, ma su tanti altri temi. E quindi questo è un tema che questa maggioranza ha attenzionato sin dall'ingresso. Non mi dilungo oltre, non entro nel merito del dispositivo, perché, ripeto, è ancora una volta estremamente similare a quello che l'assessore Mazzillo ha illustrato precedentemente. Ma, rivolgendomi all'invito del consigliere Pelonzi, e se ci sono gli estremi già sin da ora, chiederei al Presidente se è possibile interrompere i lavori di quest'Aula col consenso degli altri capigruppo per arrivare ad un dispositivo che sia quanto più possibile condiviso verso la risoluzione di questo problema.